Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo tutorial ti spiego come risolvere così i problemi di lag e migliorare così le prestazioni su OBS Studio quindi in questo caso quando vai a registrare stai avendo problemi di scatti lag quindi in questo caso ti posso consigliare le migliori impostazioni io avendo un pc di una fascia media sbarra alta con una 1660 Super, un processore Azen 5, 3600, 32 GB di RAM ti posso consigliare queste impostazioni se hai invece un pc di fascia bassa ti posso lo stesso consigliare delle ottime impostazioni da mettere su OBS Studio quindi in questo caso vai direttamente su impostazioni, vai direttamente su video, risoluzione di base inquadratura metti 1920x1080 valore FPS con numero intero metti 60, vai direttamente su uscita, io uso la modalità di uscita avanzata perché è quella ottima al posto di semplice perché quella semplice è come se OBS mette delle impostazioni ma automaticamente invece con avanzata io posso modificarle io stesso e mettere quelle migliori quindi come puoi vedere formato di registrazione io ho messo l'MPEG-4, questo qua, encoder video, io avendo una scheda grafica Nvidia metto Nvidia se non hai questo encoder video in Nvidia metti software, encoder audio lascia così come questo qua FFMPCAA chip ora andando su registrazioni della modalità di uscita avanzata metti impostazioni encoder tipo di controllo della frequenza CQP livello di quantificazione costante 15 se hai problemi di largo scatti da 15 metti 10 intervallo fotogramma chiave metti 0, preset metti P5 lento qualità buona, tuning alta qualità ma se invece hai sempre questi problemi di scatti metti bassa latenza, modalità multipass, passaggio singolo profilo questo qua metti il primo, scheda video 0, bframe massimi metti 2 invece per quelli che stanno facendo pure le dirette, quindi quelli che streamano su youtube, twitch o altre piattaforme vai su dirette, tipo di controllo della frequenza, io ho sempre usato il CBR ma non mi ha mai dato problemi, se invece ricevi problemi con il CBR metti il CQP come abbiamo messo con le registrazioni velocità in bit, ora questa è la parte più importante per la propria connessione se hai veramente una buona connessione internet, quindi in upload io arrivo fino a 300 megabit in upload potrei anche mettere 6000 perché meglio mettere 6000 kilobit al secondo se invece hai sui 80-100 megabit in upload ti consiglio di mettere sui 2500-3000 kilobit al secondo ok? perché se tu metti 500 kilobit al secondo la live andrà benissimo, fluida, senza problemi di lag però non si vedrà molto bene, tipo vedrai molti cubetti, molti cubetti dei fotogrammi che vanno in ritardo e cose così, quindi inserisci 3500 kilobit al secondo, se non ti trovi metti 4500 intervallo fotogramma chiave metti 2, preset P5 lento come ho messo sulle registrazioni toning alta qualità, modalità multipass, metti passaggio singolo, quindi copia queste impostazioni che ho messo io se hai questa impostazione metti ottimizzazione visiva scheda video 0, bframe massimi 2 e ora ti faccio vedere un piccolo test su un gioco abbastanza pesante come Elden Ring come puoi vedere io non sto avendo problemi di lag su Elden Ring, quindi in questo caso queste erano le ottime, quindi migliori impostazioni da usare su OBS Studio, sull'ottima versione la versione 30.1.2, quindi in questo caso per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!